Eichmann, che era un general che aveva detto di non avere alcuna ragione per non eseguire gli ordini, è la stessa cosa, anche se in periodi storici diversi, capitelo questo, e per favore non eseguite gli ordini, non fate ripetere la storia! Le forze dell'ordine mi hanno portata via dal santuario, carabinieri, vigili del fuoco, forestale, antisommossa, polizia provinciale, polizia e anche digos. Uno di loro mi ha chiamata handicappata mentre mi strattonava il braccio per allontanarmi. Ragazzi, benvenuti in un nuovo video in cui parliamo di una notizia assurda. Uno dei personaggi ricorrenti di questo canale, Maria Sofia, è tornata e l'ha fatto col botto. Ancora prima di approfondire esattamente quello che è successo e perché, ci tengo a dire, visto soprattutto quello che è successo dal video che vi ho mostrato all'inizio, ci tengo a dire che va bene anche avere idee diverse e tutto quanto, ma in questo caso, dopo questi avvenimenti, ci tengo anche a dire pubblicamente che voglio assolutamente mostrare il mio sostegno alle forze dell'ordine e che hanno dovuto ascoltare tutti i discorsi di Maria Sofia. Cioè, provate a immaginare dove l'ascoltare senza poter schippare quando parla lei o mettere due peri il video. Penso che sia veramente traumatico. Ma battuta parte, mi sono informato su quello che è successo, quello che stava facendo Maria Sofia, ed è una questione che va anche oltre le sue solite cazzate, quindi in questo video capiremo bene quello che è successo. Ma prima, ragazzi, se non siete iscritti, sappiate che avrete un 83% di probabilità che la prossima volta che Maria Sofia farà una protesta sarà a fianco a casa vostra. E personalmente non rischerei per nessun motivo al mondo. Ok, ma cerchiamo di partire dall'inizio per capire bene cosa è successo. Come è partita questa protesta e il perché prima di arrivare a come degenerata? Allora, quello che bisogna sapere è che il problema in questo caso è la peste suina africana. Infatti questa malattia si sta diffondendo in Europa e la Commissione Europea della Salute ha detto che sta avendo dei sviluppi che sono preoccupanti. Infatti in Europa sono sempre più i paesi che segnerano dei casi di questa malattia. E l'Italia è uno di questi. In Italia, fino all'inizio del 2022, la peste suina africana era presente solamente in Sardegna. Ma nello scorso anno ci sono stati dei casi anche in altre regioni. Tuttavia, il problema più recente riguarda la Lombardia. Infatti di recente c'è stato il primo focolaio a Pavia e poi in pochissimo tempo la malattia si è diffusa in molti altri allevamenti. È una malattia infettiva, altamente contagiosa e che coinvolge suini e cinghiali ma fortunatamente non riguarda anche gli esseri umani. Per questa malattia al momento non esistono vaccini e i sintomi possono essere anche molto gravi e portare alla morte in molti casi. E le conseguenze di questa malattia sono disastrose perché oltre alla sofferenza degli animali per questa malattia porta anche grandi perdite economiche per gli allevamenti e la produzione di carne a causa delle morte degli animali, per tutte le restrizioni e il costo delle misure di controllo. Si stima che le perdite economiche a causa di questa malattia se si rifondesse potrebbero essere di circa 60 milioni in Lombardia. Quindi per far fronte a questo focolaio per ora sono stati già battuti 33 mila maiali e l'Europa ha anche momentaneamente vietato lo spostamento di maiali sia in entrata che uscita da moltissimi comuni di Pavia. Ora voi potreste chiedervi tutto questo che cosa c'entri con Maria Sofia e quella protesta ma in realtà c'entra eccome. Infatti c'è un rifugio di Pavia che ospitava diversi maiali 38 per la precisione. La peste suina è arrivata anche all'interno di questo rifugio e ne ha uccisi molti e alla fine sono rimasti vivi solamente in 10 all'interno di questo rifugio. L'agenzia di tutela della salute di Pavia dato che la peste era entrata dentro quel rifugio ha ordinato l'abbattimento di quegli animali. Ma Maria Sofia e gli altri attivisti questo non stava bene perché quelli non erano maiali d'allevamento ma vivevano lì e basta secondo gli attivisti erano praticamente come degli animali di compagnia e per questo hanno voluto protestare contro il loro abbattimento. La polizia ha provato a entrare nel rifugio progetto Cuori Liberi per effettuare l'eutanasia dei maiali apparentemente sani e noi l'abbiamo respinta incatenandoci ai cancelli per tutto il pomeriggio sotto il sole cocente. A molte delle nostre auto sono state bucate le ruote e spaccate i vetri e non sappiamo da chi. E ATS non ha rispettato la promessa di avvisare la nostra veterinaria prima di arrivare da noi presentandosi con le forze dell'ordine che per intimidirci ci hanno minacciato di chiamare prima l'esercito e poi l'antisommossa. Se le istituzioni entrassero qui creerebbero un precedente che metterebbe a rischio anche gli altri santuari. L'unico motivo per cui abbiamo avuto successo a farle andare via è perché avevamo qua molta gente a supportarci. È da 11 giorni che teniamo in piedi questo presidio e abbiamo bisogno di voi. E quindi hanno cominciato a fare questo presidio che è durato per diversi giorni ma alla fine, come sappiamo, è finito piuttosto male per loro. Il motivo per il quale si vede che questi attivisti sono vestiti in quel modo è perché il virus, nonostante non sia pericoloso per gli uomini le persone con alcuni comportamenti possono diffonderlo ad altri animali. Infatti, il virus non si diffonde solamente tra animali infetti ma anche dagli uomini se sono stati a contatto con gli animali o con carcasse infette ma anche dagli indumenti e attrezzature che sono state a contatto con il virus o con qualsiasi materiale entrato a contatto con questo virus. E questo è uno dei motivi per il quale la malattia si rifonde così in fretta ed è estremamente pericoloso non rispettare le misure di sicurezza. Il idea di questi attivisti e di Mayra Sofia quindi era protestare contro questa ordinanza restare lì davanti al rifugio finché la TS o chi per loro non avrebbe ritirato l'ordinanza e ma glielo avrebbero continuato a vivere lì dentro in qualche modo chi gestiva il rifugio avrebbe rispettato tutti i protocolli di sicurezza per contenere il virus e non far scoppiare una nuova epidemia. Questa protesta è andata avanti per qualche giorno ma alla fine le porte dell'ordine hanno fatto eruzione e gli animali sono stati abbattuti. Eichmann che era un generale aveva detto di non avere alcuna ragione per non eseguire gli ordini è la stessa cosa anche se in periodi storici diversi capitelo questo e per favore non eseguite gli ordini non fate ripetere la storia le persone che hanno cambiato la legge ingiusta erano persone come noi che si sono fatte ammazzare picchiare per un ideale voi sorridete perché non volete ascoltare la verità perché fa male pure a voi voi vi state difendendo dalla verità provate ad ascoltarci capite che la cosa giusta non è eseguire gli ordini ma di sovvedire beh posso dire che tra tutte le opinioni e cose che ha fatto questa ragazza questa è quella più condivisibile e che posso capire da un punto di vista ma questo paragone con i nazisti fa veramente ridere da un lato abbiamo persone che abbattono degli animali malati o comunque entretti a contatto con un virus che sta causando un'epidemia e dall'altro dei nazisti paragone abbastanza infelice direi ma Maria Sofia ha raccontato quello che è successo anche con un altro video e questo è quello caretto le forze dell'ordine mi hanno portata via dal santuario parabinieri, vigili del fuoco, forestale, antisommossa polizia provinciale, polizia e anche diigos uno di loro mi ha chiamata handicappata mentre mi strattonava il braccio per allontanarmi hanno manganellato hanno dato calci e pugni hanno stretto i testi di un nostro compagno hanno dato una botta in mezzo al seno a una nostra compagna stavano per fumare all'interno del rifugio e per fortuna li abbiamo fermati hanno dato uno schiaffo in faccia a una persona a terra che stava esercitando resistenza passiva stavano tagliando la rete dove c'erano le vacche che se fossero scappate sarebbero diventate vettori per la peste suina sapete cosa dicevano? che stavano eseguendo degli ordini io urlando in lacrime parlavo di come Anna Arendt nel suo libro La banalità del male trattasse proprio di un uomo che allo stesso modo non stava facendo nient'altro che eseguire degli ordini quell'uomo era Adolf Otto Eichmann una persona responsabile della morte di milioni di innocenti le lotte sono cambiate ma gli uomini che ci danno motivo di continuare a combatterle sono sempre gli stessi io voglio sperare che questa cosa dei nazisti sia una cosa detta un po' così da lei come una delle sue solite cazzate e non perché quel gruppo di attivisti era veramente convinto che stessero lottando contro un nemico del genere ma per quanto riguarda quello che è successo penso che ci siano due discorsi da fare il primo è che lei dice che si è stata insultata e che qualcuno è stato picchiato dalla polizia se questo è vero non penso che servo io a dire che ovviamente è sbagliato a meno che non siano stati loro ad essere violenti per primi non c'è motivo che lo faccia la polizia allo stesso tempo però il fatto che li abbano presi e spostati di peso come si vede in alcuni video è un altro discorso perché da quanto dicono va avanti da molti giorni questa loro protesta e se c'è in corso un'epidemia e le persone che entrano in contatto con quegli animali sono potenzialmente un rischio perché possono continuare a rifonderla e c'è un ordine dell'agenzia della tutela della salute a un certo punto bisogna anche agire non è che possono star lì e aspettare all'infinito per quanto riguarda se sia corretto oppure no il motivo della protesta e voler tenere in vita quegli animali anche se portatori sani quello che penso io è che ci sono alcuni fattori da considerare quello su cui questi attivi si stavano puntando molto è che erano animali da compagnia e che quindi non era un allevamento ma questo quando si tratta di un'epidemia è praticamente rilevante perché il virus lo possono diffondere comunque basta solamente un errore di uno dei volontari di quei rifugi basta solamente che con le scarpe cammini in un certo terreno e poi possono diffonderlo altrove e potenzialmente far partire un nuovo focolaio di questa malattia che come abbiamo visto è veramente difficile da debellare e causa enormi danni immaginate se dopo aver ucciso più di 30.000 maiali avessero deciso di lasciare vivi questi 10 dopo qualche mese per un errore di qualcuno il virus si diffonde di nuovo e devono ripetere tutta la procedura quindi dopo aver preso tutte queste misure di sicurezza dopo aver abbattuto più di 30.000 maiali a cosa di questo virus l'idea di lasciarne comunque 10 vivi entrati in contatto con il virus e farlo solo sulla promessa dei volontari che ti assicurano che li terranno isolati e tutto quanto per come la vedo io è un rischio enorme oltre a tutti i vari costi per le procedure di sicurezza è la perdita di decine di migliaia di animali che sarebbe una follia anche perché per quanto dicano i volontari che avrebbero fatto tutto in sicurezza e ci credo alle loro intenzioni può comunque andare storto qualcosa alla fine quello non era un allevamento come dicono loro ma il virus in qualche modo lì dentro ci è finito basta anche pensare a questo se io fossi quello che doveva prendere la decisione se correre il rischio e lasciarle vivi dopo che già 30.000 erano stati uccisi mi sarebbe dispiaciuto sì ma per me sarebbe stato un rischio troppo grande che poi in realtà è abbastanza strano che per questi 10 maiali ci siano così tante persone preoccupate e disperate mentre per gli altri 30.000 non frega niente nessuno per esempio io ho scoperto che sono stati uccisi 30.000 maiali solamente perché le persone sono lamentate di questi 10 e posso capire che magari essendo un rifugio le persone ci erano affezionate ma voglio dire il protocollo è sempre quello in ogni caso fatemi sapere voi invece cosa avreste fatto se fossi stati voi quelli che dovevano prendere la decisione sul da farsi lasciando stare il fatto che ci sia in mezzo anche Maria Sofia che è ormai un meme ma in questo caso non è lei la protagonista ma comunque sia penso che per questa storia sia tutto io ringrazio come sempre gli abbonati per il supporto e noi direi che ci becchiamo alla prossima ciao